Allora, avanzi di canile. Questa evocazione dell'avanzo di canile è perché tra l'umano e l'onumano c'è un luogo, che è un luogo dove è la nostra coscienza più profonda, secondo me. Perché ci piacciono tanto gli animali, no? Perché questa qui è la cosa. Perché gli animali evocano qualcosa che gli umani spesso dimenticano, che gli umani tendono a lasciare in un luogo appunto che è nel confine tra l'umano e l'onumano. Perché gli animali sono innocenti, gli animali, come dice Emanuele, i cani per esempio sono gli animali più stupidi del mondo, però tutti amiamo questi cani e tutti siamo innamorati di questi quadrupedi che ce ne abbiamo pieni nelle case. Avete visto cosa è successo con il Papa? L'iposodio, visto che abbiamo parlato di Papa prima, ne vogliamo mettere anche noi un po' di Papa adesso, la signora che va dal Papa con il piccolo cane e gli dice benedica il mio bambino, e il Papa gli dice no, questo è un cane, non è un bambino. Ma tante volte noi, proprio noi come umani, ci riferiamo... Mi sentite? Tante volte noi come umani ci riferiamo agli animali dicendo guarda come persone, come se stessimo parlando di persone, no? Allora, questo perché? E da qui è nato questo nostro, insomma, io ci ho raffredduto un po' in questi giorni, credo Emanuele lo stesso, perché? E perché questi cani hanno riempito tanti dei libri? Cioè la letteratura è piena di cani, dal primo... dall'Odissea, da... il primo cane che ci viene in mente è Argo, questo cane che ci aspetta, che aspetta il padrone che deve tornare, no? Dieci anni di guerra di Troia, dieci anni di peregrinazioni e poi Ulisse torna e l'unico che lo riconosce, lui è tutto tramutato in mendicante, e l'unico che lo riconosce è questo cane. E il cane, come lo vede, poi muore. Quindi c'è questa cosa che non è neanche compiuta. Quindi l'umano, questo cane è più umano di tutti gli altri umani che c'erano all'intorno, perché lui è quello che lo riconosce. Lui è l'unico che ha questo rapporto con il padrone. E quindi tutta la letteratura è piena di cani. Ora, noi chiaramente qui potremmo fare delle suggestioni, vi diamo degli spunti, poi ognuno avrà il suo cane preferito, chi ha letto Zanna Bianca da bambino. Qui siamo nella terra di Collodi, quindi basta andare qui a Pescia. Insomma, il cane Melampo è un altro cane che ci ha accompagnato da quando eravamo bambini. Le fiabe sono piene di cani, ma sono piene di animali. Le fiabe di Esopo sono tutte piene di animali. E allora perché sono piene di animali? Perché gli animali stanno in questo territorio, io lo chiamo questo territorio, che è un territorio, non si può dire d'ombra, anzi forse è il luogo più luminoso della nostra anima, cioè è dove proprio l'anima umana trova la freschezza, la purezza e la cosa più, il lato più umano. C'è una frase di Schopenhauer che dice mi piacciono i miei cani, ora torno ai cani, ma perché poi il cane è l'animale che abbiamo più, come si dice, ci abbiamo tutti in casa, cani e gatti sono quelli che ci abbiamo più in casa, e poi perché sono pelosi, cioè un pesce rosso non ti dà la stessa cosa. E lei dice, questo cane è trasparente, no? È bellissima questa immagine che il cane è trasparente, perché il cane non ha mediazione, no? Il cane cosa vuol fare? Vuole mangiare, vuole andare a correre, vuole uscire, vuole le carezze e vuole stare vicino al padrone. Se tutti noi riuscissimo a comportarci come cani, io credo che saremmo gli esseri più felici del mondo, no? E quindi niente, io ho detto questa cosa qui, non so se ti ispira di... Poi dopo c'è un sacco di... Io poi voglio parlare di capre, però ne parlo dopo, perché io ho un debole per le capre, ma le capre le affronto dopo. Ora ti parla di cani insieme a te. Va bene, cara Caterina, cari amici. Beh, cominciamo dal cercare di capire dove ci collochiamo, perché voi sapete ci seguirà una lezione di Nicola Gardini, che è uno straordinario lettore di Ovidio, sulle metamorfosi in animali nel poema di Ovidio. Ci saranno altri appuntamenti con la letteratura, però diciamo che noi stiamo qua un pochino, diciamo, in una situazione illegittima fondamentalmente, nel senso che mentre ci sono delle ordini del sapere che sono fondate sulla conoscenza della vita animale, diciamo, nella letteratura si realizza una specie di paradosso, diciamo che è quello del fatto che in realtà noi non parliamo mai di altro che di noi stessi. Se noi vogliamo concepire la scrittura letteraria dal punto di vista di che cos'è un personaggio, è chiaro che la letteratura è un tipo di sapere che ha due leggi fondamentali. Una è la percezione soggettiva. La letteratura esprime sempre la reazione del singolo individuo, diciamo, alla pressione, all'interesse, alla meraviglia che desta il mondo. E questo gli antichi lo sapevano bene, i moderni lo praticano perché la letteratura non ha più nessuna responsabilità rispetto agli altri saperi. Una volta la letteratura poteva contenere le storie, le leggi, anche la scienza, no? Poi dopo i romantici è rimasta solamente quella che gli antichi chiamavano lirica, cioè il sentimento individuale delle cose. E questa è una prima legge. La seconda legge, oltre a quella della soggettività, è il fatto che la letteratura è, diciamo così, se vogliamo usare un termine preso dalla meccanica, tarata sull'umano. E non c'è niente da fare. Nel senso che noi non, anche se lo facciamo continuamente, di inventare animali parlanti, tu ti riferivi alle fiabbe prima, l'aspetto più singolare della presenza dell'animale nell'immaginazione fiabbesca, come nel sogno, è quello che gli animali parlano, fanno questa cosa che è il contrario di quello che noi facciamo esperienza. Lo facciamo anche coi morti. Pensate ai poemi, appunto tu hai citato l'Odissea, sono due cose impossibili, sono animali e morti mascherati, sono maschere, diciamo, perché la letteratura è qualcosa che è legata al vivente, legata al vivente, alla sua incapacità di prevedere il futuro, alla sua incapacità di essere, di avere un punto di vista che non è quello della contingenza. Eppure, continuamente, noi fingiamo di entrare con i nostri criteri nella mente animale, perché la mente animale crea la possibilità di inventare delle storie che sono straordinarie. Adesso io vorrei molto concentrarmi su quello che è stata la letteratura moderna, perché la letteratura moderna è una letteratura che procede di pari passo nell'Ottocento con la fondazione di scienze empiriche che fanno dell'osservazione precisa della natura animale, argomento di descrizioni è il secolo di Darwin, è il secolo di straordinario, adesso Adelphi sta pubblicando, non so, i ricordi di un entomologo di Fabre, cioè anche di libri che nascono dalla scienza e hanno una capacità di risonanza letteraria incredibile. Perché? Perché l'accuratezza, la capacità di tradurre in forme verbali il brulicare della vita, le sue straordinarie risorse che non sono solo quelle dell'adattamento, sono quelle proprio della... cioè non sono solamente quelle dell'adattamento, sono quelle dell'evoluzione, dell'apprendimento, dei cicli di vita, possono dare delle cose straordinarie. Quindi io, per esempio, invece di elencare molti libri, proprio... prendo il tuo suggerimento, tu hai iniziato questa cosa e ti è subito venuto in mente Jack London, ti è venuto in mente Zanna Bianca e io anteporrei a Zanna Bianca quello precedente che è Il richiamo della foresta. Allora, Il richiamo della foresta è un libro esemplare di come la letteratura... Infatti la letteratura, diciamo, è abbastanza disprezzata dagli etologi o dalle... diciamo che c'ha poco da... Che cos'è? La trama di questo libro bellissimo, indimenticabile, eccetera. È la trama che potrebbe essere quella di un essere umano. Praticamente c'è un cane che è il re del suo giardino, vive in una casa di ricchi a San Francisco, quindi è spadroneggia tra il pollaio, è amato dai padroni, sa che ha sempre la sua ciotola di cibo pieno, ha la... Insomma, è il re del suo universo. Poi potremmo vedere bene che cos'è lui. e viene rapito, proprio rapito, da delle persone losche che usano i cani per trainare le slitte nella... Nel nord. In zone... Nel nord, in Alaska, nella... Sono cercatori d'oro, sono mercanti, sono esploratori, insomma, quindi hanno bisogno di cani di grossa stazza e quello che fa London è caricare di significati animali una storia che è... Una storia tipicamente umana, cioè è la storia del ragazzo che perde la casa e si trova in una situazione difficile. Questa situazione difficile gli impone in uno stato di emergenza di leggere il mondo come non ha mai fatto, perché che cosa succede? a... Cosa succede nella storia? Che chiaramente si trova in delle difficoltà che riguardano la sua sopravvivenza. Intanto ci sono degli altri cani. Questi cani sono prepotentissimi, chiaramente, in una situazione di... Magari non hanno avuto la sua vita così facile fino a quel momento. Sono ossiduri, insomma. E che... qual è il senso di questa visione straordinaria, proprio davvero grande scrittore, direi addirittura senza esagerare, scespiriano, no? Che questa necessità crea un altro orizzonte, crea affiorare in questo animale di una memoria ancestrale. Questa è la prima scena che arriva in uno dei primi capitoli che per me, io quando lo lessi da ragazzo, per me era indimenticabile, è, per esempio, il fatto che lui nella sua vita non aveva mai pensato, come tutti noi, ma insisto su questo piano umano, che per sopravvivere al freddo ci si dovesse scavare una tana nella neve. e la prima sera che si accampano lui un po' perché vede gli altri cani e un po' perché è il primo momento in cui si riaffaccia qualche cosa che era sopito in lui. Era sopito per abitudini che riguardano una natura accudita, quindi quella specie di via di mezzo che sono i nostri cani domestici che ci creano migliaia di illusioni proiettive tipo noi pensiamo che guardino la televisione con noi o che partecipino alla nostra vita in tante maniere che danno l'illusione di capirne il senso e quello che succede appunto lo stesso titolo è l'idea appunto che la situazione di necessità che cos'è la natura in fondo? La natura è necessità cioè sono già due concetti filosoficamente forse distinguibili ma empiricamente risveglia in lui delle facoltà assopite questa è la grande invenzione di London cioè di non creare un libro d'avventura che procede di caso strano in caso strano fino a che c'è la salvezza ma di mettere dentro questa storia una meditazione molto vibrante perché in realtà appunto non è possibile non identificarsi col protagonista del suo romanzo non è siamo noi siamo noi che messi di fronte a una situazione di necessità a un dolore a uno smarrimento recuperiamo skills proprio possibilità di azione facoltà e addirittura questo è il lato più interessante sai questo è un libro che fece arrabbiare moltissime persone perché addirittura pensate una volta come poteva essere la politica il presidente degli stati uniti d'america che era un cacciatore ai tempi di london lo stroncò dicendo non conosce i cani perché chiaramente lui aveva lui era uno che andava a caccia di grizzly diciamo quindi era proprio un uomo natura nelle pause del governo aveva proprio una una grande familiarità con e ma la stroncatura esprimeva una verità esprimeva il fatto che london in quanto scrittore in quanto grande scrittore non aveva possibilità di di uscire dalla adesso non voglio soprappormi a a nicola quella che sarà la sua lezione memorabile però è chiaro che o noi il caso della metamorfosi è un caso perché o noi abbiamo lo schema della persona che appunto si trasforma e comunque rimpiange la sua natura umana e perché di solito poi in Ovidio sono cose legate a delle infrazioni di comandamenti divini delle delle avventure che esistono oppure noi abbiamo l'altra possibilità che è anche c'è data straordinariamente dal cinema il più bel film di metamorfosi che ho mai visto che è la mosca di Cronenberg però lì sapete c'è questo scienziato che sperimenta una in una capsula diciamo di queste della fantascienza anche abbastanza ingenuo una tecnica di smaterializzazione e rimaterializzazione in un altro posto si infila in questo campo di energie una mosca e quindi lui ritorna mezzo uomo mezza mosca perché ha assunto la natura cosa succede a quello straordinario attore si chiamasse Jeff Goldblum che perde completamente la sua natura umana in quel caso perché lì il cinema vuole rappresentare qualche cosa che non ha a che fare con una processo di redenzione no e quindi comincia diciamo a ragionare come una mosca fino a una sua totale perdita tanto è vero che c'è l'unica donna che lo ama poi alla fine si trova in pericolo perché non la mosca ragiona in maniera aggressiva e non non ha più nessuna memoria quindi non c'è in realtà non esiste il momento in cui noi possiamo fonderci con la natura animale questo è stato uno dei grandi temi filosofici del 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 perché però però i cani cioè i cani i cani gli animali entrano nella letteratura in vari in vari modi sono anche qualche volta uno strumento no con cui si usa il cane per raccontare delle cose tu hai usato il paragone di spingi con la voce ah ti spingo con la voce si usa il cane per raccontare altre realtà si usa l'animale e in questa cosa mi viene in mente assolutamente mi è fatto venire in mente ora mentre parliamo del flash il il cane di questo racconto meraviglioso di Virginia Wolf allora lì il cane non ci si prova neanche a immedesimarsi col cane però si guarda la storia di una persona quindi la storia umana attraverso gli occhi di questa bestia che e questo dà delle possibilità immense anche dal punto di vista letterario che tu dicevi quando uno si mette a raccontare ci sono tanti punti di vista che uno può usare si dice lo scrivo in prima persona in terza persona come imposto il racconto di una storia come io posso vedere questo mondo come posso tradurre la realtà in una in una forma scritta in una forma letteraria e in questo in questo racconto c'è questa cosa che secondo me è meravigliosa in cui si racconta vedendolo dal punto di vista di questo di questa bestiola che non capisce perché ci sono delle cose che succedono che questa bestiola non capisce e la genialità è di raccontare la vita di che è la vita di una poetessa non so se chi l'ha letto chi non l'ha letto ma comunque chi non l'avesse ancora letto questo questo racconto probabilmente il richiamo della finestra lo conoscete tutti questo è è un libro abbastanza famoso ma forse un po' meno ma è meraviglioso come lei riesce a sviluppare il racconto anche delle cose assurde che succedono vedendolo attraverso l'occhio di questo cocker spaniel e anche lì all'inizio inizia con il racconto di come è il cane nella natura anzi qui si fa il percorso inverso qui si parte in Jack London lui ricupera la sua natura animalesca alla fine perché sente il richiamo della foresta quindi si agisce in una certa maniera perché lui ha questa necessità qui invece il cane all'inizio si dice era un cane da caccia magnifico questa natura del cane da caccia che poi diventa invece un cane da salotto e quindi si racconta la Londra quella Londra di metà ottocento nei salotti belli della Londra e quindi si vede tutto questa perché poi attraverso la vita di 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 Elizabeth Barrett Browning che è una poetessa del periodo e quindi questa donna era malata e sta in casa a un certo punto quello che è bellissimo è secondo me quando si cambia completamente la scena e il cane viene rapito da dei malfamati un po' come un po' come Buck di Jack London viene rapito da dei malfattori e viene portato in una zona di Londra che è la zona dei malfamati White Chapel è una zona proprio i bassi fondi che sono un po' i bassi fondi di Kenziani quindi con questa gente che rapiscono i cani per prendere i soldi dai padroni e lì questo è bellissimo appunto dal punto di vista come dicevi il letterario è bellissimo cambia completamente il punto di vista perché il cane è da un'altra parte quindi tu puoi raccontare una cosa con l'occhio del cane quindi guardandolo in una maniera completamente ingenua e poi finiscono in Italia e lì finiscono mi sembra a Pisa a Firenze dove finiscono e lì il cane vede questo luce pazzesca vede il sole scopre tutta una realtà completamente diversa e da cane di salotto lundinese che quindi ve lo potete immaginare tutto perfetto pettinato comincia a diventare un cane che gira per i vicoli di Pisa poi va a Firenze e quindi diventa un cane che è un cane di strada e poi vabbè finisce questo è un altro esempio di proiezione è proiezione però perché è così prezioso questo questo non è un tema della letteratura come se ne possono studiare tanti la guerra l'amore è una cosa più profonda è una cosa che tant'è vero che questo potrebbe anche darci la spiegazione di perché comunque continuiamo a fare questo gioco continuiamo a adesso Virginia Woolf per esempio è un altro esempio è un'idea geniale cioè non scrivere la vita di una grande poetessa ma scrivere la vita di una grande poetessa dislocando diciamo il punto di vista però quando poi parla di Flash è come se costruisse una specie di equivalente umano perché non è possibile non è non ha una non potrei fare il flusso di coscienza di un cane questa è una cosa che è proprio il fondamento anche della scienza etologica cioè paradossalmente lo studio degli animali ma non dico degli animali domestici ma anche dei molluschi delle cimici delle meduse no? ha avuto un ruolo straordinario nella coscienza di che cos'è l'umano e qua ritorno al titolo di questa edizione dei dialoghi sull'uomo appunto di di quest'anno cioè il non umano illumina l'umano è una forse è molto interessante capire proprio nella storia come avviene nella storia del pensiero perché molti filosofi e molti poeti che vanno da Rainer Maria Rilke a Thomas Mann e filosofi del rango di Heidegger a partire da nei primi due decenni del secolo hanno in mano un i libri di un pensatore molto meno famoso dei nomi che ho detto che è considerato il grande fondatore della proprio assieme a Corrad Lorenz diciamo della etologia intesa come poi scienza del comportamento animale adesso non voglio entrare in classificazioni però è una storia interessantissima è stata anche raccontata da un altro ospite credo di questa edizione Vallortigara che è un grande scienziato e riguarda un nobile un aristocratico estone il barone von Huitzul scusate il nome è così che il cui libro più famoso è stato tradotto varie volte in Italia fin dagli anni trenta ambienti umani ambienti animali ma è stato tradotto con vari titoli un libro davvero straordinario un libro magico io è stata non ci capivo niente ma era una mia lettura infantile è uno dei libri che mi ha più influenzato proprio nella vita perché perché aveva un straordinario apparato iconografico adesso nel 2010 l'ha ristampato Quad Libet io veramente consiglio a tutti di procurarsi questo libro è un libro perché mi piaceva così tanto perché lui aveva delle foto tipo foto della piazza di Pistoia poi foto della piazza di Pistoia visto da un gatto ed era completamente diverso ma non solo per l'orizzonte e arrivava alla foto alla ricostruzione di come lo vedeva una vongola che è bellissimo ma voi immaginate che uno mangia un piatto di vongole al ristorante qui fuori e c'è una forse la povera vongola nel piatto no però diciamo se una vongola potesse guardare e lui che cosa qual è il senso del suo lavoro il senso del suo lavoro è fare una distinzione chiaramente a lui interessano molto gli animali lui era una persona straordinaria perché era l'unico grande scienziato del suo tempo che si occupava di queste cose del tutto indifferente alle scoperte di Darwin cosa che lo ha reso un emarginato anche Corrad Lorenz aveva un atteggiamento molto ambivalente su di lui aveva imparato molto da lui però poi se ne distaccò era un aveva lavorato moltissimo a Napoli infatti è sepolto al cimitero a Cattolico di Capri aveva quindi insomma in quel meraviglioso acquario insomma aveva conosceva molto bene e molte cose le ha scoperte oltre a essere documentato ma lui a un certo punto si pone un problema dice ma perché la casa vista da uno scarafaggio per terra no che cosa è che cos'è l'ambiente animale no e il suo esempio più famoso infatti Quadlibet l'ha messo proprio in copertina che non è forse molto attraente è la cimice la cimice è un animale che vive diciamo per aria appesa a dei rami e non fa niente aspetta di sentire un odore ma adesso già io che dico odore non è proprio cioè perché non ha il naso come aspetta di sentire l'acido butirrico quando lo sente si casca si attacca a te al tuo cane a qualunque cosa che sia un mammifero piglia gli esce questo rostro quando arriva è sulla cosa è una punta di spillo quando avete fatto magari la sgradevole esperienza a tutti voi si riempie di sangue come un pallone gonfiato a quel punto ritira il rostro o lo lasciane e si lascia cadere allora Valortigaro ha scritto un bellissimo articolo sul sole 24 ore qualche anno fa dove finge di prendere sul serio che dice povera cimice ma pensa quante cose facciamo noi ci innamoriamo guardiamo le serie in tv andiamo a Pistoia quella sta lì aspettare questo odore eccetera ma poi chiaramente rovescia la sua stessa affermazione perché questo è un caso totale di relativismo l'ambiente della cimice è costruito evidentemente dai suoi bisogni questa cosa qui sono ma è molto interessante questa cosa qui divenne per sia per un grande poeta che era Rilke che usava UX proprio come un consulente biologico e sia per Martin Heidegger divenne un oggetto proprio di un pensiero molto fecondo molto perché se quello che ha la cimice o il cane è un ambiente l'uomo non ha esattamente questo cioè noi abbiamo un mondo infatti la più famosa formulazione di questa cosa è una famosa frase di Heidegger in cui dice senza assolutamente ci tiene il filosofo a dire che non è una gerarchia per lui ma l'animale è un essere vivente povero di mondo questa è una cosa che mi ha molto molto quando ho scritto il libro sul mio cane mi capita di scrivere mi viene sempre in mente questa cosa qua cosa significa povero di mondo non è che il loro mondo perché sarebbe assurdo dire che il mondo della cimice è più povero del nostro perché che gli importa la cimice di leggere un libro ad elfi o di guardare una serie su netflix gli piace l'acido butirrico come noi rispetto ad altre forme di vita apparentemente più complesse su altri pianeti diremmo noi siamo questi perché noi potremmo essere zecche viste da altre forme di vita capito ma l'aspetto decisivo ed è molto affascinante è che il mondo l'ambiente delle cimici tende a essere uguale per tutte le cimici l'ambiente delle api l'ambiente anche dei cani dei gatti cioè è una serie di stimoli e di marche di questi stimoli che viene interpretato in tutte le maniere noi siamo l'animale più infelice del mondo perché ognuno ha il suo mondo cioè quello che noi costruiamo non è paragonabile quindi il salto ontologico siamo partiti dicendo non si può fare con l'animale ma non si può fare nemmeno tra me e te completamente una serie di convenzioni ci conduce a vedere le stesse cose e anche per questo noi anche per questo motivo noi svalutiamo l'ambiente anche per questo motivo siamo come dicono in molti sull'orlo di una catastrofe perché è chiaro che la quantità soggettiva individuale della percezione può fare sì che arrivi un presidente come è successo che dice no il global warming come ha fatto Donald Trump è una cretinata hippie di una cosca ebraica finanziata da Soros benissimo revoca degli accordi perché questo è possibile perché siamo uomini quindi noi non abbiamo un'idea del mondo comune come è comune l'ambiente agli animali capisci è da questo che noi poi cerchiamo di consolarci sempre con lo strumento dell'arte proiettando quello che abbiamo dentro sul vivente senza distinguere ma in realtà noi viviamo all'interno di una percezione assolutamente individuale tu citavi prima no hai fatto una considerazione molto molto profonda molto bella questa cosa affataide sì vabbè però no connettendola al mondo di oggi connettendola alla impossibilità di comunicare tra umani e tra umani e non umani no tornando cioè no tornando proseguendo diciamo questo dialogo e tornando alle capre che avevo detto prima di cui volevo parlare perché non è che abbiamo tutto questo tempo abbiamo ancora una decina di minuti ammazza vola il tempo a pistola a pistola a pistola famosa perché il tempo passa quindi no allora no davvero a Roma se fai una cosa non finisce mai e invece vabbè avete questa percezione quindi è un'altra misurazione appunto parlando di scienziati e di relativismo no mi rilacciavo a questa tua cosa parlando di questa cosa delle capre perché stavo rileggendo in questi giorni una cosa molto che mi aveva colpito e mi aveva fatto pensare proprio al rapporto tra l'umano e il non umano in un'altra ottica tu parlavi di Trump io parlo adesso di bomba atomica e di una cosa che di una cosa che è un racconto di un racconto di Calvino che Calvino fece nel 46 quindi quest'anno è l'anno calviniano stanno ripubblicando un po' di cose eccetera la sai la storia delle capre di bichini certo la storia delle capre di bichini allora nel 46 vengono fatti degli esperimenti nell'isola di bichini per vedere gli effetti della bomba atomica sul sull'uomo come se quello che era successo a Hiroshima e Nagasaki l'anno prima non fosse bastato questo per dire già come l'umano si approccia al non umano che è intorno a lui e quindi fanno questa è l'operazione crossroads che è una cosa abbastanza nota quello che è interessante prendono per dirvela proprio in poche parole fanno tirare delle bombe che sono delle bombe che devono scoppiare sul livello del mare e sotto e sotto il mare e c'è delle navi che stanno vicino all'isola di bichini sull'isola di bichini ci sono incidentalmente anche degli abitanti gli abitanti siccome sono umani li prendono e li tolgono senza considerare poi cosa succederà no le radiazioni e tutto quello che è e invece su queste navi mettono degli animali per vedere l'effetto che possono avere queste radiazioni e queste bombe sugli animali quindi prendono porcellini d'India maiali delle formiche dei ratti e poi queste capre che sono 204 capre queste capre ci sono delle foto se voi le googolate e le cercate come bikini goats le vedete che proprio vi vi suscita un' un'emozione vedere queste bestie che sono sulla sulla nave con un po' di paglia davanti con un secchio di acqua perché dovevano sopravvivere per il tempo dell'esperimento e curiosamente non vengono messi né cani né gatti su queste su queste navi ovviamente questo sperimento suscita gli animali muoiono tutti non c'è bisogno di starvi non è questa la trama della cosa cosa è che succede però e questa è la cosa interessante che mi ricollego a quello che tu dicevi gli animali muoiono e vengono fatte in America delle commemorazioni nel 46 commemorazioni delle capre di bichini e Calvino racconta questa vicenda e contate che nel 46 Calvino aveva 23 anni quindi era un ragazzo era uno dei primi lui faceva il giornalista all'epoca e voleva diventare scrittore quindi guardava sempre comunque le cose con un'ottica e con un occhio diverso quindi lui è il primo a raccontare la bomba atomica e gli effetti della devastazione umana dell'umano sul non umano attraverso gli occhi di queste capre e racconta che le capre in America vengono organizzate delle commemorazioni per le capre cosa che non era stata fatta in Europa non avevano commemorato i bambini morti a Hiroshima nessuno aveva commemorati ancora ora probabilmente sono state fatte ma all'epoca no quindi cosa succede c'è uno sfasamento una cosa che non ha come una cosa che si rompe uno sfasamento ecco e questo Calvino la racconta la racconta in una maniera magnifica e poi ti racconta anche dice ma cosa pensano gli animali cioè come nel punto di vista della vongola che sta in piazza dei Pistoia no lui dice cosa può pensare un cane che muore sotto un bombardamento cosa può pensare una capra che muore a bikini cosa possono pensare gli animali dei nostri comportamenti e questo secondo me è proprio la cosa che ci riconnette con il non umano e che ci fa diventare più umano e la cosa il commento che viene da fare a noi a me comunque credo anche a Calvino che finisse la cosa dicendo le bestie va da sé non erano le capre in questo caso e questo secondo me ci riconnette al discorso che facevamo all'inizio diciamo che in realtà sono tutte proiezioni certo è come una maniera di non abbiamo non abbiamo uno scampo nel senso che anche se potessimo ecco io concepisco di più non so quei racconti fantastici basati sulla telepatia sull'entrare nella mente di un mio simile che il racconto di metamorfosi come dicevamo è un racconto simbolico cioè non ma io credo che poi alla fine di tutti questi discorsi noi siamo degli specialisti forse questa è la ragione del fatto che poi siamo diventati la specie dominante su questo pianeta noi siamo degli specialisti della differenziazione e la differenziazione dei mondi ci rende incomprensibili l'uno all'altro e molto stranieri su questa terra la cosa bella è che noi abbiamo un l'atteggiamento conoscitivo è il punto di vista scientifico ma anche la capacità di osservazione probabilmente cioè non è che poi va svalutato sempre l'umano come inquinatore e lontano dalla meravigliosa poesia tu hai citato prima non mi ricordo a che problema Schopenhauer Schopenhauer dice una cosa che è bellissima perché è un'altra maniera di farci capire la differenza lui dice filosoficamente è impossibile concepire l'idea artistica del ritratto di un animale perché che cos'è il ritratto come viene sviluppato non so dai maestri del rinascimento da Rembrandt è proprio la presa d'atto del fatto che i lineamenti umani sono la visione somatica della nostra differenza nemmeno i gemelli sono l'eccezione che conforme perché perché non avevamo non avevamo zanne artigli ali avevamo solo il linguaggio ma il linguaggio ha la necessità di capire chi è che ti parla e quindi abbiamo differenziato i lineamenti sono il fatto che abbiamo facce diverse e che parliamo ci ha fatto vincere rispetto ad avere la pelliccia per l'inverno sembrano cose più deboli e sono diventate cose più forti evidentemente però perché non c'è il ritratto dell'animale perché nell'animale prevale la specie ora io so che tutte le persone qua che hanno un birillo un fuffi una cosa dicono no il mio è diverso da tutti ma non è vero siamo noi che lo vediamo diverso in realtà la specie è talmente prevalente che Schopenhauer ha ragione cioè ritratto è una parola che si può legare solamente all'umano questa cosa è la fonte di noi siamo sempre sul limite a noi piace quella cosa là perché la vita animale è una vita libera dalla libertà dall'idea di libertà da qualche cosa che noi siamo totalmente responsabili ognuno di noi stessi dal filosofo alla persona più cretina del mondo non c'è proprio differenza dell'immagine del mondo che ci costruiamo che è complessa e irripetibile nello stesso tempo perché noi non possiamo pensare che quella delle api sia meno complessa della nostra non possiamo pensare che quella dei lombrichi o dei cani o di qualsiasi però la nostra forza e la nostra debolezza ci induce a creare dei meccanismi narrativi che sono straordinari perché sono da topolino a zanna bianca le cose che la domanda di Calvino che cosa voleva dire cosa ne penserebbero delle onoranze funebri a loro tributate le capre non ne penserebbero niente è un discorso che ci porta però è un discorso che ci porta a ragione noi possiamo solamente avere questo come la malinconia di Dürer che c'ha quella donna bellissima con l'aria triste che cosa c'ha c'ha quel cane accovacciato quella è come la sua home poi c'avrà un significato allegorico ci hanno scritto libri interi ma per noi che siamo semplici spettatori poi dello spettacolo della vita che cos'è ci sembra normalissimo perché sono quelle specie di ombre di alterità che abbiamo e questa è la cosa più una delle cose più benefiche al mondo per esempio è passare la vita con un qualsiasi tipo di animale perché la ci sono chi c'ha gli uccelli chi c'ha i cani chi alleva i maiali qualsiasi cosa no e noi dobbiamo imparare a essere più comuni nella nozione dell'ambiente in quello che ci circonda e se noi continuiamo a vivere portandoci dietro l'idea esterna ognuno è il nostro mondo diverso felici che siamo tutti diversi andiamo verso una catastrofe perché noi non abbiamo dei punti di riferimento comuni noi non abbiamo la possibilità di vedere lo stesso mondo e probabilmente l'utopia di vedere le stesse cose è contenuta nel fatto che noi continuamente ci proiettiamo sul mondo animale cioè desideriamo qualche cosa che appartiene solo a loro e devo dire che oggi che anche in forme di ideologia un po' ripetitiva sfissiante eccetera però ci sono delle cose nel credo dell'ecologia radicale che chiaramente ci spingono a a svalutare la nostra capacità di creare mondi soggettivi perché la creazione di mondi soggettivi è sempre legata alla catastrofe non non ci il caso di quello che viviamo è un caso palese di troppa lontananza dal mondo animale noi dobbiamo a mio parere recuperare riappropriarci della specie la capacità di vedere le stesse cose la capacità di vedere le stesse cose è una cosa di cui l'uomo è stato troppo lesionato cioè diventeremo tutti dei cocker spaniel tutti delle civici tutti delle civici io vorrei il cocker mi sembra troppo bello troppo vicino all'umano se noi ragionassimo come le scimici cercheremo di sopravvivere tutti con le altre nostre cose insomma però quella è la cosa che dobbiamo imparare non dobbiamo imparare ad essere più buoni perché gli animali non sono più buoni non dobbiamo imparare sono più buoni gli animali non c'è niente della natura morale che noi impariamo dagli animali però dalla la nozione di ambiente è una nozione che viene tutta dall'animale non dall'uomo allora io dico il tempo mi sembra che siamo è volato è volato perché a Pistoia abbiamo capito che il tempo vola più veloce che a Roma questo è un caso di mente umana questo è un caso di mente umana per una cimice per una cimice il tempo è uguale a Pistoia e a Roma bella 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 per una cimice per una cimice